Ciao a tutti da Rosi Elite Carra Sarei bando alle ciance e andiamo a presentare i prodotti, le occasioni di questa sera Andiamo Iniziamo subito col cavallo di battaglia di Mercedes, classe A Vi ricordo una vettura veramente molto sportiva, dinamica, con un'abitabilità eccezionale Motorizzazioni disponibili, sia benzina che diesel, con cambio manuale o cambio anche automatico Ogni tipo di accessorio che può essere il faro full LED, il navigatore satellitare, i sensori di parcheggio con il parcheggio automatico assistito Vi ricordo il prodotto e la provenienza, provenienza estera tedesca, vettura che utilizza il dipendente Mercedes Noi le compriamo in fabbrica, le importiamo in Italia, le ritarghiamo La garanzia segue la vettura, quindi è coperta da garanzia ufficiale Mercedes-Benz Europa Di conseguenza se vi trovate anche fuori zona la garanzia copre Detto questo prezzi a partire da 19.900 euro più spese di messa in strada Super rotazione del vostro usato e ovviamente anche un ottimo tasso di interessi per quanto riguarda finanziamento e eventualmente leasing Da classe A partiamo e vi parliamo di classe B Una vettura in questo caso che va veramente molto bene per le famiglie perché ha ovviamente un'ottima abitabilità e porta bagagli Trazione anteriore o 4x4, cambio manuale, meccanico quindi o altrimenti con cambio a sette rapporti, doppia frizione e cambio automatico Anche in questo caso accessori che vanno dal navigatore satellitare, sensori di parcheggio, parcheggio assistito, i fari full led, il tetto apribile che più ne ha più ne metta A partire da 20.900 euro, stesso discorso di super valutazione dell'usato e di ottimo tasso di interessi per leasing e per finanziamenti Vi ricordo inoltre che tutte le vetture di questa sera siccome sono coperte d'IVA, cioè vengono rifatturate col 22% Per chi avesse l'egiavolazione 104, legge 104, quindi IVA al 4% può usufruire di questa particolare egiavolazione anche su queste vetture di importazione Ed entriamo in gamma GLA, 4,41 m di autovettura, veramente un design eccezionale, molto sportivo, crossover di Mercedes Cambio manuale, cambio automatico, doppia frizione e sette rapporti Navigatore satellitare anche in questo caso, clima automatico, collision prevention assist che è installato su tutta la gamma Mercedes Quindi è un radar che vi avverte se non siete in distanza di sicurezza e vi frena parzialmente se siete troppo vicini alla vettura che vi precede Detto questo, anche in questo caso motorizzazione benzina rigorosamente Euro 6, anche diesel con finto antiparticolato è sempre Euro 6 Trazione anteriore e posteriore, ogni tipologia di colore e ricordo con pochissimi chilometri Un anno di vita circa, scoperte ancora da garanzia ufficiale Mercedes a partire da 24.900 Euro più spese di messe in strada Continuando sempre in gamma e piattaforma A abbiamo in Elite Car sia la categoria CLA che CLA Shooting Brake Quindi il modello Coupé e il modello Station Wagon, volgalmente chiamato perché la Shooting Brake è un prodotto che deriva dalla Station Con un design molto sportivo, anche in questo caso vetture aziendali con pochi chilometri provenienti dalla casa madre Quindi chilometraggio certificato tagliando effettuato dalla casa madre Detto questo, anche in questo caso prezzi veramente convenienti a partire da 23.900 Euro più le spese di messe in strada Possibilità, come dicevo, nei vari optional, tanti sono di serie O altrimenti si può avere appunto il cambio automatico, il tetto apribile, il pacchetto night Che è un oscuramento in alcune parti della macchina e così via Anche in questo caso legge 104, IVA al 4% e supervalutazione del vostro usato Vi parliamo di classe C In questo caso una bellissima classe C Station Wagon, modello premium, il modello più sportivo Con trazione posteriore, ma anche 4x4 disponibile in Elite Car Vi ricordo anche il modello berlina, sempre superaccessoriate, motorizzazione benzina, diesel, pochi chilometri Vetture, anche in questo caso, provenienti dalla casa madre, da ritargare in Italia Vetture a partire da 25.900 Euro più le spese di messe in strada Signori, quando faccio vedere una vettura come in questo caso Da 50.000 Euro, e passa perché più o meno siamo intorno ai 55, questo prodotto È normale che noi la possiamo proporre, in questo caso, intorno ai 36-37.000 Euro Il 25.9 è una vettura superaccessoriata, però non con un motore 2.000 da magari 204 cavalli O con trazione 4x4 Ecco, lo dico solo per correttezza e trasparenza Che penso arrivi dall'altra parte Ecco, direi di continuare con il resto della gamma Rimaniamo in gamma Mercedes, se vi parliamo di classe E Disponibile in Elite Car, vettura aziendale con pochissimi chilometri Sia modello berlina che anche station wagon come questa qui alla mia destra Diverse versioni, tra cui sport e premium In questo caso una sport Motorizzazioni, vi ricordo, un nuovo propulsore installato circa un anno e mezzo fa Sulle Mercedes con una cilindrata al 1950 E una potenza che può andare da 150 a 194 cavalli Poi ci sono anche motorizzazioni benzina, tutte rigorosamente Euro 6 Con tutti gli accessori che volete immaginare Dai fari multi-beam full LED Piuttosto del cambio automatico con convertitore di coppia A 9 rapporti Quindi voglio dire, vetture veramente tecnologicamente molto avanzate Sempre di provenienza estera Quindi pochi chilometri Certificazione del chilometraggio Garanzia ancora in essere sul telaio Possibilità, perché no, anche di estensione e garanzia Terzo e quarto anno Con un piccolo importo aggiuntivo Ma comunque poi venite qua, ne parliamo, non c'è problema Prezzi, in questo caso su classe E A partire da 34.900 Euro Più messa in strada E quindi anche qua Ovviamente siamo aperti a un discorso legato a finanziamenti Leasing con tassi ottimi di interesse E valutazione, diciamo, abbastanza importante del vostro usato E da classe E ci spostiamo a parlarvi di classe GLC Motorizzazioni diesel o benzina Disponibili sempre in Elite Car Vetture aziendali con pochissimi chilometri Provenienti dalla casa madre A partire da 44.900 Euro Più spese di messa in strada Smart Anche in questo caso Vetture aziendali con pochissimi chilometri Certificati Sia il modello 4.2 che 4.4 A cambio automatico e cambio manuale A partire da 7.900 Euro Più le spese di messa in strada Ed ora entriamo a parlarvi della gamma Volkswagen Perché vi ricordo in Elite Car Anche prodotto Volkswagen In questo caso vetture nuove Ma anche aziendali con pochissimi chilometri Ma perché non passare subito alla regina Diciamo del momento di Volkswagen La nuova T-Rock Una vettura nuova e innovativa Crossover di casa Volkswagen Con misure veramente ridotte Ma allo stesso tempo internamente Un'abitabilità e un bagagliaio immenso Vettura tecnologicamente molto avanzata Con tutti i sistemi di sicurezza Più avanzati attualmente nel mercato auto Installati su questa vettura di serie Prezzi molto molto interessanti Da 19.900 Euro Più spese di messa in strada E IPT Signori quando parlo di questo prezzo Che è un prezzo eccezionale Parlo del prodotto d'entrata Quindi il motore d'entrata Con l'allestimento d'entrata Ho già inserito uno sconto E ho già inserito un aiuto Volkswagen Che si chiama Premium Flat Che su ogni vettura Ha un importo differente Quindi signori Prezzi da 19.900 Euro Più spese di messa in strada E IPT Passiamo subito a parlarvi Di nuovo Apollo Anche in questo caso Una vettura riuscitissima Che va molto di moda Appena uscita Una vettura completamente diversa Dalla precedente Con degli ottimi punti di forza Una vettura da 4 metri e 0,6 Quindi una piccola luna sorellina In miniatura della Golf Che ormai conoscete benissimo Motorizzazioni con motori Veramente molto puliti Benzina, diesel Con cambio manuale automatico Ogni tipo di colore e versione Metture, vi ricordo, nuove A partire da 10.900 Euro Più spese di messa in strada E IPT Ripeto Il discorso legato al prezzo È già stato scontato E c'è un contributo Che arriva dalla casa madre Che è un premio in matricolazione Già inserito nel prezzo Che vi dico Sul motore d'entrata Con l'allestimento base Ok? Ovviamente Dopo insieme a voi Andremo a definire Il prodotto che Diciamo Sposa meglio le vostre esigenze Supervalutazione del vostro usato Anche in questo caso E ottimo tasso di interesse Per quanto riguarda Il finanziamento In quanto ci sono delle campagne Molto molto aggressive Di Volkswagen Per cercare di Insomma Di proporre in modo Più completo La gamma Volkswagen E il resto della gamma Che questa sera Andremo a vedere Dalla bellissima Polo Che abbiamo appena visto Passiamo alla sorella maggiore Quindi nuova Golf Chi non la conosce Ormai La pietra miliare Della gamma Volkswagen Qualsiasi tipo di allestimento Colore Cambio automatico Manuale Versione benzina Diesel Vetture ripeto Nuove Nuove A partire da 16.200 euro Più spese di messa in strada E IPT Anche in questo caso Sottolineo il prodotto D'entrata Con l'allestimento base E il motore d'entrata Comunque A prescindere da quello Nuova Golf Abbiamo veramente Tantissima disponibilità Vi tratteremo Benissimo sul discorso Ritiro usato E anche su una situazione Legata ai finanziamenti Leasing Perché ci sono delle campagne Veramente finanziarie Molto importanti Addirittura c'è Un 0,90 A livello di punti Percentuali Un 0,90% Di interesse Quindi signori Neanche l'1% Ovviamente Sono delle campagne Collegate al circuito ufficiale Di conseguenza Poi dopo ve le spieghiamo Come funziona Esiste anche Un altro prodotto Importantissimo Che si chiama Progetto Valore Volkswagen Dove voi date Un piccolo anticipo O anche no Avete una rata costante Su un finanziamento Che può essere Di 24,36 mesi Quindi 2-3 anni E la Volkswagen Alla fine Di questa tempista Egregata al finanziamento Vi garantisce Un importo sicuro Sulla macchina Quindi voi cosa potete fare? Potete restituire La vettura a costo zero Potete rivalutare La macchina con noi E potete altrimenti Finire di pagarla Continuando A finanziare la macchina Quindi ci sono diverse possibilità Venite a trovarci Che anche in questo caso Vi spiegheremo bene Nel dettaglio La proposta commerciale Signori Per motivi di tempo Purtroppo non riusciamo A farvi vedere Tutte le occasioni Di questa sera Comunque Vi ricordo in Elite Car Anche gamma Tiguan A partire da 22.200 euro Più spese di messe in strada Ept Come posso dirvi Gamma Passat Stia Berlina Che Station Wagon A partire da 25.900 euro Più spese di messe in strada Ept O altrimenti Turan O Charan La Turan A partire da 20.300 euro Più spese di messe in strada Ept E Charan A partire da 34.400 euro Più spese di messe in strada Ept Signori Prima dei saluti finali Non mi resta che ricordarvi Che Elite Car Si trova magente In Corso Italia 40 Veramente molto facile Da raggiungere Prendete la Milano Torino Uscite a Marcallo Mesero Direzione Abbiate Grasso E ci trovate circa Dopo un chilometro e mezzo Sul lato destro Della carreggiata Quindi signori Grazie di cuore E da parte di tutto Lo staff Elite Car Per un 2017 Straordinario Che ci ha permesso di diventare L'azienda che ormai Conoscete da tanti anni Quindi vi aspettiamo numerosi Nel 2018 Un ciao a tutti Da Alberto E da Elite Car Per un 2017 Veramente straordinario Che ovviamente Perché allora E allora E sei forte No aspetta Non riesco a finire Stacca E vi aspettiamo nel 2018 Con lo stesso Sto affanculo Speriamo di ritrovarvi Nel 2018 Con Mi consente Prometto insomma Di Ci ripromettiamo No Ci ripromettiamo No 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 Spera Ovviamente Da parte mia Pronto 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 Siamo a lavorare Con il massimo impegno Entusiasmo Per un 2018 Spero All'insegna Della Simpatia Della Allegria Tutto l'entusiasmo E tutta la presenza Di Tipo Poi spiriti Sarei Sono le presenze Ma che cazzo sto dicendo La presenza Aspetta Aspetta La presenza Aspetta Aspetta No